Mister Viccheri, Sir Del Pino, Carlo Terracino, allenatore proprietario, Insalchi, Gaetano Bacio, 15.4 il lancio, seconda posizione, Tenerife Mail, una femmina da SJS Foto e Aurata Laksmi, Giuseppe Citarella, l'allenatore, Vincenzo Longo, Insalchi, terza posizione per Taksidis e quarta per Tommy Griff, un figlio di Lavi Ue e Maura Griff, con Antonio Di Nardo, 31 il quarto iniziale, 46,7 i 600, con Tommy Griff che adesso va a gravitare ai fianchi di Tenerife Mail in seconda posizione, si arriva al completamento degli 800, percorsi in 1,3 e qualche spicciolo, Tommy Griff raggiunge il battistrada, sembra sopravvanzarlo, poi ha qualche difficoltà di meccanica, bravo Di Nardo a tenerlo in camminata, chilometro in 1,18 e 1,14 e 9 di ultima frazione, adesso Tommy Griff inseguito da Tenerife Mail, i due di Citarella nelle prime due posizioni, 1,33 i tre quarti di miglio, un'altra frazione in poco meno di 15, dopo partenza cauta Tommy Griff è avanzata a largo e adesso sta sciorinando ottime frazioni, la curva volata in 14,4, trotta poco ma fa molta velocità questo Tommy Griff che va a concludere a media notevole di 2,2 scarsi, tenendo conto che i 600 sono stati passati in 46,7 c'è un 15 per l'ultimo chilometro.